Il bacio assolutamente no, il bacio fa bene. Potrebbe esserci il rischio ed è una grave possibilità purtroppo. No. Oddio, penso di sì, penso di sì. Secondo me con un bacio si può essere infettati a rischio e a questa malattia. Se ci sono delle ferite o delle in bocca io penso che un bacio è pericoloso. Sì, penso di sì. Un bacio? No, con un bacio non si trasmette l'HIV. Penso sia un rischio perché da quello che so attraverso la salivazione è probabile trasmettere questo tipo di malattia. Credo che dovrebbero esserci anche delle ferite nella bocca o anche forse tramite salivazione si va soltanto con l'HIV. Si viene a contatto o a contrare la malattia anche con l'HIV. No, il bacio non è assolutamente un rischio per la trasmissione. La trasmissione è un rapporto sessuale completo oppure altri meccanismi, ma il bacio non ha assolutamente questo tipo di problema. No, un bacio non è assolutamente un rischio. Assolutamente no. No, il bacio non ha un rischio per la trasmissione. Da quel che mi ricordo, da insegnamenti fatti a scuola, no. Il bacio non veicola il virus. L'infezione d'HIV non si trasmette con la saliva. Quindi il bacio, utilizzare le stesse posate, utilizzare gli stessi bicchieri di pazienti che hanno l'infezione d'HIV non significa contrarre l'infezione d'HIV. La trasmissione è una trasmissione attraverso il sangue e attraverso i rapporti sessuali non protetti.